Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo e oggi siamo a un nuovo episodio della RetroCraft, signori, quattordicesimo episodio e se ieri non siete passati vi consiglio di guardare il video di ieri perché, signori, abbiamo passato all'inferno per uccidere quel drago siamo morti una, non so quante volte, però alla fine ci siamo riusciti detto questo vi ringrazio comunque per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale, signori detto questo partiamo e prima cosa da fare oggi voglio intanto cercare di recuperare l'uovo, che sarebbe cosa buona e giusta allora, in teoria col pendolo, dove cazzarolo è finito il mio uovo, signori? dove cazzarolo è finito il mio uovo? è entrato nel portale? dove è andato? nooo, non ci posso credere, ma perché è tutto storto in questa serie? ma perché? dove è finito? dove lo ritrovo il mio uovo? qualcuno me lo sa dire? forse se andiamo nel portale? si, chi se ne frega qui del dei titoli di coda voglio l'uovo? voglio l'uovo! ce la fai? ce la fai? non c'è neanche qua? ma dove cazzarolo è il mio uovo? non ci posso credere, tutto storto, mannaggia signori signori, allora facciamo una cosa, io faccio un breve taglio in cui preparo tutto l'ambaradan per andare a cercare l'elitra e ci vediamo dopo, sempre qui sul canale ok signori, ci siamo, ci siamo per voi è stata una pausa brevissima, io ho perso un pochino di tempo perché ho preso dei materiali ho fatto altre carote, ho fatto altro cibo, ho preso delle enderper ho preso dei materiali da costruzione che sicuramente ci serviranno e poi che altra cazzarola ho fatto? ah, ho fatto i razzi, così se dovessimo trovarle l'elitra possiamo tornare volando velocemente a casa allora signori, io vi chiedo scusa per l'audio della prima parte che ci ha avuto un piccolissimo problema però abbiamo risolto, abbiamo risolto detto questo signori, non perdiamo altro tempo in cischierie in cischierie e lanciamo l'enderper lì dentro e andiamo, dove è il void signori? ok, 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 perfetto perfetto, siamo nella cacca più totale perché non vedo nessun tipo di isola bene, signori parte la nostra avventura non so in che direzione sinceramente andare spero di riuscire a vedere qualcosa magari qualcosa che mi dia un aiuto, un segnale un elemento che mi dica vieni qui la barca è qui ma non vedo assolutamente niente da nessuno una parte mi si è rincastrato il pulsante della camminata bene, bene, bene no, bene ma non benissimo bene ma non benissimo qui c'è un enderman che dobbiamo lasciare bello tranquillo signori, iniziamo a fare dei punti purtroppo dobbiamo riuscire a trovare l'end city l'end city? no, la città qua del void e dobbiamo trovare anche la barca perché l'obiettivo sono le litra signori l'obiettivo del video di oggi sono le litra dobbiamo portarcele a casa quindi iniziamo a costruire ponti e iniziamo a vagare nel nulla più totale è come se camminassimo nel deserto praticamente circondati dal nulla e dobbiamo solamente riuscire a non impazzire questa già è una cosa molto importante signori, ho aumentato un po' qui c'è anche per capire se magari in profondità riusciamo a trovare qualcosa l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata fai che ci sia la barca fai che ci sia la barca signori no, no, non vedo la barca non vedo la barca signori, vedo solo la no, è una piccolina mannaggia bufala bufala di una miseria non è che per caso negli intorni c'è qualche altra cosa? no avevamo aumentato i shank per cercare di trovare qualcosa di importante qualcosa di importante l'abbiamo trovata ma non c'è la barca signori non c'è la barca questa cosa non è non è molto buona non è molto buona perché a noi interessano le litre le litre stanno sulla barca va bene andiamo intanto a conquistare quella andiamo a conquistare quella città signori vediamo se ci sono delle casse interessanti anche se fondamentalmente non è quello che interessa a noi signori ne abbiamo trovato un'altra ne abbiamo trovato un'altra stavo andando stavo attraversando questa zona per andare al al castello che abbiamo trovato lì come cazzo la si chiama di lì e di là ce ne sta un'altra signori che è più cicciosa è più cicciosa ci sarà la barca lì ti prego dimmi di sì perché se non ci sta manco la barca lì smatto di brutto allora stiamo calmi facciamo un ponticello carino e coccoloso qui intanto stiamo a morire di fame va bene ma intanto facciamo un ponticello qui andiamo verso verso quella N-City che poi sono le N-City queste sì sì le N-City penso di sì non mi ricordo come cazzo la seguiamo la seguiamo la seguiamo se non ricordo male sono le N-City intanto mangiamoci mangiamo qualcosina ti prego dimmi che lì ci sta la barca perché se non ci sta la barca mi dobbiamo andare a cercare un'altra e mi sto rompendo un attimino le scatole a cercare tutte queste cose ne stiamo trovando un sacco no non c'è la barca signori a meno che non sia dall'altro lato non vedo la barca da dove ci possiamo arrivare noi per risparmiare blocchi da nessuna parte siamo sicuri di voler andare lì? io non vedo la barca signori non vedo la barca vedo solamente una torre così alta che non serve assolutamente a nulla fondamentalmente voi vedete la barca? signori ho messo i chunk massimi ho messo i chunk massimi e la barca non c'è quindi niente da fare non lo costruisco il ponte per arrivare fino là sotto è una cosa inutile andiamo normalmente verso quella direzione dove c'era l'altra end city e vediamo no 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 ho fatto la cagata 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 maledetto bastardo devi morire devi morire devi morire tu e non io ok mamma mia ho visto un enderman in faccia abbiamo fatto la cagata colossale va bene torniamo verso quella end city di là e vediamo un attimino se siamo più fortunati andando in quella direzione a trovare quella con la barca eccoci arrivati signori eccoci arrivati iniziamo l'esplorazione purtroppo è confermato la barca non c'è bastardi che poi è una di quelle belle cicciose perché non ci hanno messo la barca non lo so vai andate tutti quanti a quel paese iniziamo l'esplorazione direi di sì dovrebbero esserci gli shulker box se non sbaglio o meglio gli shulker che questi sono molto carini e coccolosi non proprio non proprio tanto carini e coccolosi però però no 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 fammi incastrare qua sotto ok abbiamo guardato anche un enderman l'impressione è mia penso di sì penso che abbiamo guardato anche un enderman quindi forse mi conviene salire ancora un altro pochino ok iniziamo male iniziamo male però però va bene mi hanno portato già al primo piano quindi questa già è una cosa interessante entriamo salve buongiorno 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 quindi li ammazzeremo la prossima volta eh sì l'enderman continua ad arrabbiarsi ma a noi ce ne frega poco dell'enderman che sta sbraitando riesci ok perfetto ce l'abbiamo fatto ok grazie gentilissimo prenditi qua saliti qua occhio che noi abbiamo gli stivaletti della caduta ma ecco punto se mi si incasta il pulsante della camminata siamo tutti bene 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 iniziamo l'esplorazione della ender city della prima end city signori è quella un pochino più grossa vediamo se cosa riusciamo a fare vediamo se lo riusciamo a fare più che altro vediamo se riusciamo magari a trovare delle casse magari questo sarebbe cosa buona e gradita se mi fai salire ci sta ancora l'enderman che mi sta cercando ma porca miseria ma fatti una vita zio ma fatti una vita veloce 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 dobbiamo riuscire a incastrarci qua dentro ok così questo lo ammazziamo male ok mi è droppato qualcosa brutto bastardo non mi è droppato niente siamo incastrati non so dove però va bene oh perfetto non c'è manco una cassa ma si scherza cioè si sono arrivato fino a qua non c'è manco una cassa ma che intestiti è ma porca miseria non mi ha droppato nemmeno il coso ok non so chi mi abbia colpito però grazie mi hai colpito tu brutto bastardo mi hai colpito tu brutto bastardo ma sai che morirei male me lo droppi uno shulter box non mi droppano niente ma perché bastardi che non sono altri non mi devono droppare niente cerchiamo di cascare senza farci male ok niente signori end city inutile end city inutile il 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 come cazzo si chiama il creeper eh si il creeper il no niente signori il gioco ha deciso che devo morire il gioco ha deciso che devo morire un'altra 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 un'altra